la rissa di venerdì sera a San Domenico nel grave fatto di sangue ha perso la vita un cinquantenne Marcello Tortorici l'appello della sorella sicurezza e controlli a Caltanissetta parla il questore Emanuele Ricifari San Domenico la voce del quartiere dopo la rissa di venerdì parlano il parroco padre Alessandro Rovello e il presidente del comitato settimo Ambra rinasco da me a San Cataldo nel ricordo di Ivana Intilla lo stadio Tomaselli riapre i battenti dopo la collocazione del manto sintetico ben trovati proseguono le indagini sulla rissa di venerdì sera a San Domenico a Caltanissetta nel grave fatto di sangue ha perso la vita un cinquantenne Marcello Tortorici l'appello della sorella a distanza di tre giorni dal grave fatto di sangue avvenuto nel quartiere San Domenico dove ha perso la vita un cinquantenne Marcello Tortorici operaio raggiunto da una coltellata fatale non si registrano novità di rilievo né sulla dinamica dell'episodio né sulla posizione degli altri presunti partecipanti alla rissa che sono stati interrogati fondamentali nella ricostruzione dell'accaduto potrebbero rivelarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona per risalire con maggiore certezza al numero delle persone coinvolte e quindi alle rispettive responsabilità bocche cucite tra gli investigatori al momento non sono pochi gli interrogativi senza risposta anche sul motivo da cui sarebbe scaturito tutto fino al tragico epilogo stando e si dice che si fanno largo in città la fidanzata di un giovane avrebbe ricevuto apprezzamenti non graditi se le cose fossero andate così chi sarebbe stato l'autore di tali apprezzamenti e quando sarebbe stato un botte risposta nell'arco della stessa serata di venerdì o l'incontro tra le parti avverse sarebbe stato programmato dopo un primo battibecco tra alcune delle persone coinvolte qualche giorno prima e in ogni caso poi chi avrebbe sferrato il fendente che ha ucciso Marcello Tortorici in quale fase della violenta rissa Marcello Tortorici era lì dall'inizio dell'accesa discussione ne conosceva il perché o stava per soccorrere un familiare rispondendo a una frenetica richiesta d'aiuto su facebook la vittima è descritta come una bella persona allegra un lavoratore onesto sempre disponibile con tutti un fratello scrive non c'entra nulla e non sapeva nulla è stato chiamato e alla fine ha avuto la coltellata da dietro prima di arrivare sul posto in un altro post della sorella fa sapere che sono stati sottratti una collana e i soldi nel bel mezzo di una tragedia al fratello e lancia un appello se qualcuno involontariamente avesse trovato una collana d'oro chiedo di farmela riavere per potergliela fare indossare prima di salutarlo un'ultima volta lui ci teneva molto perché era di nostro padre e so che avrebbe voluto questo sicurezza e controlli in città parla il questore emanuele ricifari caltanissetta solo 48 ore fa è balzata gli occhi della cronaca per una rissa finita coltellate con l'esito di un 51 anni morto e tre feriti il tutto è accaduto a san domenico dove è stato determinante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine dei soccorsi sulla sicurezza della città abbiamo chiesto al questore di caltanissetta se verranno adottate ulteriori misure sui servizi di controllo del resto proprio i fatti accaduti l'altra sera a san domenico al di là della loro gravità non avrebbero potuto essere più tempestivi gli interventi delle forze dell'ordine in particolare prima dei carabinieri immediatamente dopo anche nostro sulla vicenda tant'è vero che è stata immediatamente definita e chiarita e adesso seguirà il suo iter giudiziario per quanto riguarda il fatto in sé non è un fatto circoscritto a una situazione verosimilmente degenerata di lite determinate da rivalità più o meno legate a motivi passionali a questioni a questioni certamente ritenute importanti all'interno di ma risolte in una maniera da cavalleria rusticana un po' barbara strategie di sicurezza della città frutto di uno studio che si fa del territorio per contrastare il fenomeno e su queste abbiamo chiesto ulteriormente come si procede in generale si procede cercando di sulla base dello studio approfondito di ciò che avviene di ciò che avviene nelle stagioni negli orari dei momenti nei quartieri nelle zone ciò che viene registrato a tutti i livelli dalle pattuglie di tutte le forze dell'ordine compresa la polizia locale poi da qui ne discendono le strategie di contrasto e in particolare tra queste quella più importante che è quella di controllo e monitoraggio sul territorio. San Domenico la voce del quartiere dopo la sanguinosa rissa di venerdì parlano il parroco padre Alessandro Rovello e il presidente del comitato Settimo Ambra. Il quartiere San Domenico è ancora scosso per il duello rusticano avvenuto venerdì sera dove ha perso la vita il 51 anni operaio nisseno Marcello Tortorici. Un quartiere ribaltato al centro della cronaca ancora molto ferito e poco sereno come abbiamo sentito dalla voce di chi lo vive quotidianamente. Gli eventi di venerdì hanno profondamente turbato tutta la comunità, tutte le persone che abitano nel quartiere San Domenico, nel quartiere Angeli. Tuttavia ho avuto modo già di confrontarmi con tante persone e ho anche avuto modo di sentire il desiderio di agire, di vivere bene perché quando avvengono questi episodi così drammatici, così difficili, si può cadere nello scoraggiamento, si può cadere nella disperazione, ma io ho sentito e ho visto e ho sperimentato che anche in questo territorio, anche in questa parrocchia ci sono dei semi di speranza, ci sono dei semi di vita buona, ci sono delle persone che desiderano affrontare in maniera diversa le difficoltà, gli ostacoli, i problemi. Sono preoccupati per quello che è successo perché si sentono, come sempre, come quartiere, si sentono abbandonati, non c'è nessun controllo, manco i video per poter controllare la zona, cosa che abbiamo notato per quanto riguarda questo fatto in Grecioso. Invitiamo l'opinione pubblica, l'amministrazione comunale e la polizia che tempo fa il vecchio questore aveva mandato la polizia di quartiere dove presidiava il quartiere e effettivamente le cose si erano molto a molto calmare, era sopravvenuta una certa sicurezza da parte del cittadino. Comune di Caltanissezza, il consigliere Oscar Raiello contesta la scelta di un consulente esterno. È il capogruppo della Lega Oscar Raiello che contesta la scelta dell'amministrazione comunale di affidare un incarico a un avvocato di Catania con un compenso annuo di circa 38.000 euro. Si fa portavoce, dice, di avvocati nisseni specializzati in diritto amministrativo con percorsi documentati analoghi a quelli del legale catanese incaricato. Ed il capogruppo della Lega sottolinea che la contestazione del consulente esterno per la predisposizione della gara per esternalizzare la gestione dei tributi andrebbe, sempre secondo quanto afferma Aiello, oltre alla professionalità del candidato selezionato, soffermandosi sul bisogno di guardare oltre i confini i cittadini scartando tutti i candidati locali. Aiello sostiene nelle osservazioni condivise alla stampa che le scelte dell'amministrazione comunale dovrebbero sostenere prima i nisseni e richiama l'episodio della scelta di professionisti del palermitano per la realizzazione dello spot della scorsa estate per incentivare gli acquisti in città. Così i consiglieri della Lega Oscar Aiello e Valeria Visconti hanno presentato al sindaco un'interrogazione in merito all'incarico. Infine abbiamo contattato l'amministrazione comunale per la replica sulla questione sollevata dai consiglieri di opposizione e dal momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Nuovo corso di laurea nel capoluogo nisseno da gennaio le lezioni di mediazione linguistica e culturale. Un nuovo corso di laurea triennale a Caltanissette inizieranno a gennaio 2023 le lezioni di mediazione linguistica e culturale. Sabato scorso la presentazione nell'aula magna Leonardo Sciascia del consorzio universitario in collaborazione con Goramundi che già da Grigento ha avviato il corso che ha visto il 100% dei laureati inserirsi nel mondo del lavoro. L'obiettivo del consorzio universitario è intanto di offrire personale specializzato con una laurea in mediatore culturale linguistico e lingua araba. Questo credo che faciliterà anche l'interazione tra gli extracomunitari e i residenti sul rapporto che possa essere anche di integrazione perché noi siamo per l'internazionalizzazione e soprattutto siamo per la possibilità che si dia anche ai giovani di conseguire un nuovo corso di laurea che li possa integrare anche nel mondo del lavoro. Si avrà così al centro della Sicilia la possibilità di acquisire in tre anni il titolo di studio valido per l'iscrizione all'albo dei mediatori culturali istituiti con legge regionale lo scorso 20 luglio. Già da quattro anni siamo sul territorio agrigentino. Posso dire che l'esperienza è estremamente positiva. Noi formiamo insegnamenti di altissimo livello con professori che vengono dalla Sapienza, dall'Università di Napoli, professori emeriti come il professore Guarino che è il massimo esponente di diritto internazionale. Anche qui a Caltanissetta ci sarà dunque la possibilità di fare questo corso triennale che dà ampissime prospettive lavorative. Infatti tutti i ragazzi che hanno finito il percorso triennale ad Agrigento hanno trovato subito un impiego. Infatti il livello di occupazionalità possiamo dire che è al 100%. Una scelta strategica, ha detto durante il suo intervento il sindaco Gambino, presenti anche il vice sindaco Gianmusso, rappresentanti delle forze dell'ordine e del mondo dell'associazionismo e della scuola erano presenti alla conferenza stampa. I mediatori sono figure necessarie all'interno delle sedi istituzionali, sanitarie, basti pensare agli uffici del lavoro, ai comuni, ma anche alla prefettura e alla procura. La necessità è quella di formare figure professionali che possano gestire anche le dinamiche socioculturali che quotidianamente si presentano. La figura del mediatore linguistico è una figura che è cresciuta nel tempo, dagli anni 80-90 fino ad oggi si è evoluta. Oggi io definirei la figura del mediatore linguistico come quello di un ponte tra le diverse culture. Desidero pensare che sia così, che sia il mediatore un ponte che deve non solo, da un lato, raccogliere i bisogni dei migranti, ma dall'altro lato anche rispondere alle esigenze della società, di una società multietnica, quale sia la nostra. Il corso prevede lo studio delle lingue araba, francese e inglese con laboratori linguistici. Il piano di studi prevede anche discipline sociologiche, psicologiche, giuridiche e di approfondimento delle culture e delle religioni dei paesi extraeuropei. Le iscrizioni dovranno essere presentate al Consorzio Universitario di Caltanissetta entro il 20 dicembre. Per chi ha un ISEE inferiore ai 9.000 euro, la tassa di iscrizione sarà di 500 euro annue. L'assessore regionale Aricò incontra i vertici dell'ANAS. Entro tre mesi, tempi di percorrenza ridotti del 20% sulla Palermo-Catania e sulla Palermo-Agrigento. Unire sempre di più la Sicilia attraverso il miglioramento delle infrastrutture è uno dei punti principali del programma politico del nuovo governo regionale guidato da Renato Schifani. In quest'ottica si è svolto lo scorso venerdì l'incontro fra l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e ai vertici di ANAS Sicilia. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione delle autostrade e delle strade siciliane. Riteriamo che nell'arco dei prossimi tre mesi potremo sicuramente ridurre il tempo di percorrenza delle prime due arterie di cui parlavamo, cioè la Palermo-Catania e la Palermo-Agrigento, di almeno il 20%. Durante l'incontro si è parlato dello stato dei cantieri nell'autostrada A19 Palermo-Catania, nella strada statale 121 Palermo-Agrigento, con i lavori di ammodernamento nel tratto fra Bolognetta e Lercarafriddi e della costruzione della strada Catania-Ragusa. Il primo incontro istituzionale ci siamo conosciuti, abbiamo presentato quali saranno le iniziative del nuovo governo, loro ci hanno rappresentato lo stato d'essere delle autostrade, delle strade siciliane. Siamo rimasti con loro che ci rivedremo prossimamente nei loro uffici per verificare tutti i progetti in essere cantierabili che metteranno in atto nelle prossime settimane e lo stato di avanzamento dei lavori esistenti. Abbiamo parlato di tre grandi arterie, naturalmente la Palermo-Catania, poi ci siamo soffermati sulla Palermo-Agrigento e poi l'autostrada di nuova costruzione che sarà la Catania-Ragusa. Erano presenti oltre all'assessore il dirigente generale del Dipartimento regionale infrastrutture Fulvio Bellomo, il direttore territoriale ANAS Sicilia Raffaele Celia, il responsabile area gestione a rete Palermo Domenico Curcio e il responsabile area autostradale ANAS Enrico a Zeni. Nelle prossime settimane, a conclusa Ricò, faremo dei sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Si è trattato di un primo incontro istituzionale fra il Governo regionale e i vertici di ANAS Sicilia, in cui l'assessore ha presentato le iniziative dell'esecutivo regionale sul fronte della viabilità, ricevendo rassicurazioni sull'andamento dei cantieri. Rinasco da me a San Cataldo nel ricordo di Ivana Intilla. Rinasco da me, l'evento sul ricordo della giornata contro la violenza sulle donne, organizzato dal vice-sintaco di San Cataldo, Marianne Gutilla, alla presenza del sindaco Giochino Comparato e in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, diverse associazioni che agiscono sul territorio san-gataldese e con la presenza di alcuni componenti della squadra di calcio della san-gataldese, della squadra femminile Gloria Città di San Cataldo e la Tauri Rugby. Si sono radunati intorno alla panchina rossa di Piazza Papa Giovanni XXIII, dedicata ad Ivana Intilla, dove i familiari si sono uniti al ricordo della ragazza, per poi trasferirsi alla Sala Paolo Borsellino, dove attraverso le slide di aiuto del Comando dei Carabinieri, testi recitati e momenti di comunità, si è ricordato il valore del 25 novembre e del suo forte significato. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento, come abbiamo fatto anche lo scorso anno, perché crediamo nel valore dei momenti condivisi con l'intera comunità san-gataldese. Infatti abbiamo avuto tante testimonianze da parte di associazioni, di organizzazioni e anche di singoli che si sono uniti insieme a noi proprio a questo evento e all'organizzazione di questo evento. Ecco la testimonianza del fatto che davvero crederci è lanciare dei piccoli semini e porta i loro frutti anche a distanza di un anno. Abbiamo voluto ricordare Ivana Intilla, una nostra concittadina, vittima di femminicidio e siamo proprio voluti partire dalla panchina rossa intestata a lei, posta di fronte al Comune. Abbattere le barriere della violenza è semplice ma allo stesso tempo è un duro lavoro. Bisogna partire dall'educare i nostri figli e per educare i nostri figli il primo esempio siamo noi, noi genitori. Bisogna educare i ragazzi a diventare degli adulti rispettosi e bisogna crescere ragazze sicure di sé ma soprattutto rispettose del proprio corpo. Fondamentale è il ruolo dei genitori in questo caso. I nostri figli oggi vivono di modelli, appunto modeling, imitazione. I piccoli è facile che imitano i propri genitori e in una famiglia dove c'è tanta violenza e poco amore cresceranno ragazzi che avranno delle situazioni spiacevoli da grandi dove l'uomo sarà autorizzato a picchiare e la donna sarà autorizzata a subire. Ritrovarsi dinanzi a una panchina di Viale Regina Margherita, calzanissetta nella giornata contro la violenza sulle donne. Presenti Angela Caruso, Lisa Faraci e Federica Scalia, consiglieri comunali. Un anno fa era stata la prima panchina inaugurata dopo il progetto di Viale a colori, dove le dieci panchine del Viale Regina Margherita riprendevano colore, dando ad ognuna di loro anche un tema sociale. Venerdì, durante la giornata contro la violenza sulle donne, il consigliere comunale Lisa Faraci, nonché fautrice del progetto, insieme ad altri due consiglieri Angela Caruso e Federica Scalia, si sono ritrovate dinanzi la panchina per ricordare il valore della giornata e disprezzare ogni forma di violenza causata sulle donne. Il messaggio che mi sento di dire a tutte le donne è di non rinunciare al diritto della libertà, di non consegnare mai la propria vita nelle mani di nessuno e di denunciare qualsiasi tipo di violenza, perché le istituzioni ci sono e sono a fianco di tutte le donne che hanno bisogno di sostegno. Quello che mi sento di dire è ribellati da qualsiasi forma di abuso, difenditi da qualsiasi forma di violenza, ma soprattutto hai la possibilità di denunciare al 15-22. Il messaggio che diamo è sempre quello, ormai le parole ridondanti sembrano quasi inutili, perché il fenomeno del femminicidio e della violenza sulla donna è sempre più costante, è sempre in aumento, non cala, per cui oltre a dire donne state attente, per favore state attente, a primo cenno, a primo segno andate via, scappate e denunciate. Antenna Rai di Caltanissetta, intervento di Giuseppe D'Antona, ex presidente della Proloco. L'ex presidente della Proloco di Caltanissetta, Giuseppe D'Antona, in un post sui social ha manifestato una sua critica in merito all'antenna Rai e alla sua tutela, che tra il poco interesse e proteste continuano a dividere la politica e l'opinione pubblica. Mentre a Milano si festeggiano i 70 anni della Torre Rai, situata in Corso Sempione, la nostra antenna vira in un silenzio preoccupante. Ma siamo diversi dai milanesi, noi misseni, sicuramente la realtà milanese non è quella di Caltanissetta, però ai fini della regolarità della funzionalità dello Stato alcuni enti si comportano in un modo, altri in un altro. Innanzitutto, in autonomia, come ho scritto nella mia illustrazione sull'antenna, la sovrintendenza di Milano ha bloccato il famoso travicio di Corso Sempione della Rai, che non trasmette più e quindi doveva essere dismesso e diventerà monumento nazionale a spese dei contribuenti, ovviamente. A Caltanissetta si parla da tanto tempo dell'antenna che qualcuno vuole dismessa. Non si capisce chi, non bisogna demordere. Noi avremmo una grande opportunità mantenendo l'antenna e io mi auguro che sia il Comitato Parca Antenna, a cui concorrono tantissime associazioni, compresa la Proloco, mi auguro che ancora riescano a condurre questa battaglia per l'acquisizione dell'antenna, che può essere veramente un grande volano di sviluppo per la nostra città. Sia l'antenna come attrazione per la sua storia, ma anche l'area dove si trova. Lo stadio Tomaselli riapre i battenti dopo la collocazione del manto sintetico. Lo stadio Marco Tomaselli è di nuovo al servizio delle società sportive dei Nisseni. Infatti stamani è stato inaugurato il nuovo campo dopo la fine dei lavori e dopo una lunga vicenda che finalmente si è conclusa con l'apertura dell'impianto sportivo. Alla presenza del sindaco Roberto Campino e l'assessore allo sport Fabio Caracausi, con la presenza di alcune società sportive, lo stadio Tomaselli rinasce a nuova vita ed è pronto ad aprire i battenti. Oggi riapriamo questo impianto dopo questi mesi di lavori, tra l'altro anche abbastanza travagliati per le note vicende che sapete. Stamattina è sicuramente emozionante venire qui e con tutti gli amici dello sport che sono intervenuti, le federazioni, per poter comunque dare questo nuovo corso all'impianto Marco Tomaselli. Che dire, l'impianto di ultima generazione con il doppio tappetino che dà la possibilità di omologa sia per il calcio che per il rugby e chiaramente oltre il rifacimento delle piste atletiche leggera che consentiranno, fino a che andremo a completare i lavori con un finanziamento di 635 mila euro che avremo già decretato nei prossimi mesi, di poter comunque anche rimettere a nuova totalmente anche le piste dell'atletica. Le categorie di utilizzo al momento sono fino alla serie D e questo chiaramente predispone anche per il calcio, chiaramente per il rugby non ci sono dei vingoli particolari, questo predispone chiaramente che l'impianto abbia comunque una grande valenza, un grande interesse diciamo regionale o chissà anche magari nazionale. Ha una capienza di 4500 posti, quindi con la funzionalità completa sia della tribuna che le due curve e questo chiaramente fa sì che l'impianto possa essere comunque utilizzato anche per altro genere di eventi. Sport pari della San Cataldese in Calabria, vittoria della Niss al Palmin Telli. Calcio serie D, la San Cataldese sfiora il colpaccio sul campo della Vibonese. Nel primo tempo Verde Amaranto in vantaggio con Zerbo, lo 0 a 1 dura fino al 94esimo quando i Calabri trovano il pari con Martiniello. I risultati della tredicesima giornata, Catania Cireale 1 a 0, Sant'Agata Castrovillari 3 a 1, Licata Realla Versa 2 a 1, Locri Canicattì 3 a 1, Paternò Cittanova 1 a 3, Ragusa Trapani 1 a 5, San Luca Santa Maria 2 a 2, Mariglianese La Mezzia rinviata, Vibonese San Cataldese 1 a 1. La classifica Catania 35, Vibonese, La Mezzia e Locri 22, Sant'Agata 21, Ragusa 20, Licata 19, Castrovillari e Trapani 18, San Luca 16, Realla Versa 15, Santa Maria 14, San Cataldese e Paternò 13, Canicattì Cittanova e Acireale 12, Mariglianese 3. Nel campionato di eccellenza, Girone A, la Nissa torna al successo dopo il tonfo di Misilmeri. I biancoscudati si sono imposti sul Resuttana San Lorenzo 3 a 1. In vantaggio gli ospiti nel primo tempo su calcio di rigore trasformato da Clemente. Nella ripresa i nisseni pareggiano con Ortiz al cinquantasettesimo, passano dieci minuti e arriva il gol del sorpasso messo a segno in acrobazia da Marna. Sul 2 a 1 il Resuttana San Lorenzo si spegne e nel finale c'è il terzo gol della Nissa con San Martino. I risultati della dodicesima giornata. Parmon Valgela 0 a 1, Acragas Cus Palermo 3 a 1, Casteldaccia Misilmeri 1 a 1, Profavara Castellammare 0 a 0, Sciacca Mazzarese 4 a 0, Mazzara Leonfortese 1 a 1, Nissa Resuttana 3 a 1, Oratorio Marineo Enna 1 a 2. La classifica Acragas 30, Don Carlo 26, Profavara 25, Enna 23, Sciacca e Mazzara 22, Mazzarese 20, Casteldaccia 16, Nissa e Castellammare 15, Oratorio Marineo 12, Leonfortese 11, Resuttana Cus Palermo 7, Gela 6, Parmon Val 4. La protezza di Marna ricorda quella di Zappalà nel 1989, così il direttore generale della Nissa, Vincenzo Cancelleri, nelle interviste dopo Nissa Resuttana. La Nissa ritrova la vittoria e saluta il Palmindelli. Tra due domeniche si ritornerà al Marco Tomaselli, quando la squadra bianco scudata affronterà il Mazzara dopo la trasferta di domenica prossima a Leonforte. Invito tutti a guardare le immagini sul secondo gol che ha fatto il nostro attaccante, perché è qualcosa di strepitoso. Mi è sembrato di rivedere il gol di Zappalà tanti anni fa e adesso speriamo in nuovi innesti che possano sistemare per bene la squadra e continuare in un campionato per come c'eravamo prefissi. Siamo partiti un po' così così, abbiamo fatto un errore su una rimessa che purtroppo hanno concesso un calcio di rigore e siamo andati sotto. Però devo fare un plauso ai ragazzi che hanno messo tanto carattere, grinta e determinazione, hanno ribaltato il match nel secondo tempo. Serviva una vittoria ed è arrivata, era importante farla in casa, non perdere punti per risalire la china e uscire dai bassi fonti. Nel primo tempo sicuramente non siamo entrati bene in campo, senza la giusta cattiveria, però capita, sono partite. Poi i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo a ritrovare il giusto entusiasmo. Onestamente devo fare complimenti a questo risultato a San Lorenzo, che è una squadra ben messa in campo, ci ha messo molto in difficoltà, ci ha messo il cuore. Sì, la prossima in casa siamo già a Piantellago, però abbiamo salutato bene il Palmentelli e questo per noi è un onore. Non si ferma la marcia dell'Alba Verde, che batte con il settimo 3-0 su otto partite, la Cus Catania, e permette alla formazione nissena di mantenere la vetta solitaria della classifica. La gara, durata poco più di un'ora, è stata un monologo delle padrone di casa, che non hanno mai perso il filo del gioco, mostrando carattere e concretezza, e una buona capacità di mantenere la concentrazione anche quando il match mostrava fasi di stanca. Tra le atlete dell'Alba Verde, buona prova di Valeria Lamattina, Sara Miceli, Jenny D'Antoni e Alessia Angilletta, ma in generale tutta la squadra ha giostrato su buoni livelli di rendimento. Sabato 3 dicembre, insidiosa trasferta a Catania contro il volley Funivia Etna. I risultati dell'ottava giornata Serie B2 Girona M. Alba Verde Cus Catania 3-0, Stefanese Funivia Etna 0-3, Fidelis Torretta Pallavolo Crotone 2-3, Gioiosa Procoria Ricina 1-3, Planet Saracena 0-3, Bricositi Volley Volley Region 3-2, Ardens Comiso Zafferana 0-3. La classifica. Alba Verde 22 punti, Zafferana 21, Pallavolo Crotone 20, Gioiosa 17, Funivia Etna 16, Procoria Ricina e Cus Catania 15, Fidelis Torretta 14, Saracena 9, Volley Region 7, Ardens Comiso 5, Bricositi Volley Stefanese 3 punti, chiude la Planet con un punto. E' tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità, grazie per l'attenzione, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, giornata di martedì, quando una nuova zona di bassa pressione si formerà sul Mediterraneo centrale, tra Nord Africa e l'Italia, fuoriera di piogge e rovesci specie all'estremo sud e sulle due isole maggiori. Nel dettaglio possiamo notare la tanta nuvolosità che interesserà la nostra penisola. In sintesi, mappa dell'Italia, il tempo che sarà a tratti grigio e uggioso anche al nord, con deboli fenomeni nevosi sulle Alpi, e poi piogge e rovesci più probabili al sud, anche a sfondo temporalesco e intensi su parte delle due isole maggiori. I dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo su nostro sito web. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Eufrate, via Filippo Turati Servizio notturno, Centrale, Corso Umberto Servizio di venisa Ar�onissetta